Un emendamento alla legge di bilancio già approvato dalla Commissione Cultura della Camera parla di 2.000 posti di organico aggiuntivo finalizzato all'estensione del tempo pieno. Qualche esponente della maggioranza si è già lasciato andare e sta già parlando di tempo pieno per tutti, ma le cose stanno proprio così? Ma direi di no, vediamo. Prendiamo per esempio la scuola primaria. Le classi sono in tutto 130.000, dati del Ministero. Una su tre funziona oggi a tempo pieno, ma in alcune regioni le classi a tempo pieno sono meno del 20%. In tre grandi regioni del sud, la Sicilia, la Puglia e la Campania, le classi in totale sono 35.000, ma solamente 4.500 funzionano a tempo pieno. È facile comprendere che con 2.000 posti di organico aggiuntivo si potrà fare poco o quasi nulla. Certamente non si potrà generalizzare il tempo pieno, che peraltro ha bisogno anche di strutture aggiuntive, come per esempio i trasporti e le mense. E poi c'è da aggiungere ancora un altro particolare, che in realtà questo emendamento di cui stiamo parlando è stato sì approvato dalla Commissione Cultura della Camera, ma non ha ancora ottenuto il via libera da parte del Ministero dell'Economia, che è quello che tiene i cordoni della Borsa. Anzi, già si parla di una proposta del Ministero dell'Economia di abbassare il tetto dell'organico aggiuntivo da 2.000 a 1.000. Si capisce che con questi numeri ci sarà poco da sorridere.